Come avevo anticipato, finalmente abbiamo trovato un accordo per il mister, siamo molto felici, è una persona, oltre ad essere umanamente una persona fantastica, la carriera parla per lui, ha vinto, ha esperienza, è il profilo giusto per questa squadra. Come diceva il direttore prima in conferenza, abbiamo da subito condiviso, io e Davide, l'idea di trovare prima di tutto degli uomini e, come diceva lui, gente che ha voglia, che ambizione, che va a fare la guerra perché ci vuole il campo. Grazie a tutti.